Gesù si è fatto uomo, è sceso dal cielo per portare la gioia, ma per portare anche la liberazione, la salvezza dell'amore che Dio, creatore, ha immesso dentro di noi e dentro di voi in modo speciale, carissimi sposi Davide e Nicola Francesca. E ve lo dicevo ieri sera, voi siete il capolavoro di Dio e voi siete il progetto di Dio e Dio ha sognato e sogna sempre allagrante per voi. Allora bella questa parola, camminate nella carità, Davide, Nicola Francesca, voi siete stati chiamati, ecco da Dio, a camminare nell'amore. Non è possibile questa, questa è vita, non vi stancherete mai di camminare e di camminare insieme, tenendovi per mano. Camminate nell'amore e nell'amore di Cristo, nel modo che anche Cristo vi ammette. ha parlato e ha dato se stesso per noi.